Fine settimana da Bollino Nero, il primo di agosto, con il boom di partenze dei vacanzieri verso le località di villeggiatura. Per questa mattina, da giorni, Anas e Polizia Stradale avevano annunciato Bollino Nero, che diventerà rosso domenica. Traffico intenso fin dalle prime ore lungo le principali arterie della Lombardia e di tutta Italia. Anche sull'autostrada A9, la Inate Comochiasso, lunghe code si sono registrate in entrambe le direzioni. Il sito di Autostrade per l'Italia segnalava in mattinata coda alla barriera di Comograndate per traffico intenso e una coda di tre chilometri, che nel pomeriggio è diventata di quattro, tra Comocentro e Chiasso per l'attraversamento della Dogana Svizzera. Ai vacanzieri si aggiunge anche chi si concede soltanto un weekend o una gita fuori porta in giornata. Traffico dunque anche in città, in particolare sul lungolario Trento, Viale Fratelli Rosselli, Via Borbovico in direzione Cernobbio e sulla statale Regina, verso le principali località affacciate sul lago. Code soprattutto tra Colonno e Lenno. A Comu disagi per gli automobilisti anche in via Oltrecolle. Il cantiere in corso in queste settimane, con il senso unico alternato regolato da semaforo, questa mattina ha provocato rallentamenti. Traffico intenso, come detto, è previsto anche nel pomeriggio di domenica su strade e autostrade, con i rientri dalle vacanze e dal weekend fuori porta. Un'altra giornata difficile per chi ha deciso di spostarsi in auto per raggiungere i luoghi di villeggiatura sarà sabato 10 agosto con un nuovo bollino nero.